Grazie Presidente, buon pomeriggio Sottosegretario. Ennesima conversione in legge di un ennesimo decreto con l'ennesima fiducia. Do alcuni dati. Il Governo Conte nel 2020 ha emanato 35 decreti, ha posto 10 fiducia. Il Governo Draghi 10 decreti, 3 fiducia. Vorrei ricordare che la decretazione d'urgenza, pur prevista nel nostro ordinamento, richiede straordinarietà, urgenza, necessità. Se questo diventa un'abitudine, abbiamo perso il carattere del decreto di urgenza. Presidente, lei deve sorvegliare che questo Parlamento non diventi pubblico pagato di un Governo che si appropria della funzione legislativa. Fatta questa premessa, dico che questa decretazione d'urgenza è ancora più fastidiosa se continua a incidere sulle libertà individuali, fondamentali, sulla libertà di spostamento, sul coprifuoco, sul numero di commensali allo stesso tavolo o sulla carta verde che avete introdotto. Bene. La posizione di fiducia ci ha precluso ogni minima possibilità di discutere, di modificare un provvedimento che giudichiamo tardivo, incerto e in ogni caso incompleto. A queste nostre obiezioni ci sentiamo spesso rispondere che il diritto alla salute limita tutti gli altri diritti. Bene, noi crediamo che questo potesse essere vero nella prima fase della pandemia, ma dopo più di un anno il diritto alla salute va tutelato non castigando il diritto alla libertà degli individui, il diritto di lavorare, il diritto delle imprese di intraprendere. Va tutelato aumentando i posti letto, aumentando le terapie intensive, formando infermieri, formando medici, mettendo al sicuro gli anziani, i fragili e organizzando una valida campagna vaccinale. Vede, Presidente, oggi se stiamo uscendo da questo incubo, di certo non lo facciamo per le misure bizzarre di limitazione della libertà individuale che il Ministro Speranza e il suo Comitato Tecnico Scientifico hanno adottato. Unico caso al mondo in cui si è dovuta fare una circolare per interpretare ciò che loro stessi avevano scritto. Cioè, vale a dire, per capire quante persone potessero mangiare allo stesso tavolo. Noi diciamo basta limiti. Lo ha detto il nostro Presidente Meloni con un ordine del giorno presentato a questo provvedimento in cui si chiede appunto che sia eliminato il numero dei commensali sia all'aperto che al chiuso. Anche perché se siamo allo stesso tavolo, in più di quattro, il quinto sarà sicuramente a più di due metri di distanza dal primo. E quindi in realtà che limite è? Non ha proprio senso questo tipo di limite. Torniamo a noi. Stavo dicendo che se usciamo da questo incubo sicuramente non è dovuto alle misure restrittive ma alla campagna vaccinale. che dà i suoi frutti una nota positiva di questo decreto e la proroga del commissario Figliuolo. La cui capacità organizzativa e logistica ha messo miseramente a nudo la totale inconcludenza di chi lo aveva preceduto. L'onnipotente commissario Arcuri che ci ha fatto perdere mesi preziosi per la campagna vaccinale. Quando è costata all'Italia e agli italiani la totale incapacità del commissario Arcuri? Oltre a mesi di privazione sicuramente centinaia di milioni di euro non rendi contati ma di cui dovrà presto rendere conto anche grazie all'opera costante di denuncia di Fratelli d'Italia. Vede Presidente, noi abbiamo una visione molto diversa delle cose. L'insieme di questi provvedimenti di riapertura sono nella vostra ottica una concessione che il Governo fa a cittadini e imprese. Noi diciamo da sempre tutt'altro che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese ha il dovere di stabilire le regole e vigilare perché vengano rispettate. E allora in termini di concessioni pare tale anche quella che riapre al pubblico le porte degli eventi sportivi. Mi lasci dire, sottosegretario altra norma totalmente senza senso possiamo accedere a un impianto per il 25% della capacità massima fino a un massimo di mille spettatori. Sa perché? Perché nell'articolo 5, lei lo saprà bene al comma 4 si dice che si limita a mille per cercare poi in caso di contagio di effettuare il tracciamento. Bene, vorrei dire al Ministro Speranza che se il tracciamento fosse affidato alla sua applicazione immuni anche solo due spettatori sarebbero troppi per la validità di questa applicazione. Durante tutto il periodo di lockdown abbiamo chiesto che fossero individuati validi strumenti di tracciamento perché nel momento in cui i contagi fossero scesi sotto 5.000 giornalieri questi potevano essere di aiuto per cominciare a ritracciare tutto quello che si muove intorno al virus. Non è stato fatto nulla e per nascondere questo non fare si impedisce oggi anche il godimento di una singola partita di calcio. Poi anche da questo punto di vista ci viene da sorridere perché dopo la variante Speranza che portava il virus a essere contagioso dopo le 18 oggi c'è una nuova variante che contagia solo in certi stadi e solo per certe partite perché alcune volte si può andare in 8.000 e altre volte solo in 1.000. Quindi continua questa forma un po' bizzarra. Questo è chiaro che è frutto di mancata programmazione perché le cose si fanno oggi perché non servano domani. Ma evidentemente il nostro Ministro non la pensa così e dal piano pandemico in poi ha sempre pensato di fare diversamente. Ma noi, e qui mi permetto di ricordare che grazie all'opera di Fratelli d'Italia e del collega Bignami la verità verrà inesorabilmente fuori. Mi rimane poco tempo, mi pare, Presidente. 3 minuti e 45. Ah, bene. Allora, noi non condividiamo di questo decreto un'altra cosa, l'istituzione del certificato verde. ancora meno lo condividiamo con una decretazione di urgenza. Cos'è il certificato verde? Un foglio che certifica che si è guariti da Covid nei sei mesi precedenti, che ci si è vaccinati nei nove mesi precedenti o che si è fatto un tampone nelle 48 ore precedenti. È necessario a dire di questo decreto per spostarsi fra alcune regioni. È necessario per partecipare ad alcune cerimonie ai matrimoni e è necessario anche per partecipare ad alcuni eventi sportivi. Bene, lo stesso garante della privacy in un avvertimento formale ha rilevato diverse criticità. Noi lo riteniamo profondamente ingiusto e limitativo, soprattutto nei confronti di chi non può sostenere il costo dei tamponi. Il Governo avrebbe dovuto prima organizzare la possibilità per tutti di avere un tampone gratuito e poi prevederne l'obbligo. La famosa capacità di programmare di cui parlavo prima e che pare essere evidentemente sconosciuta a questo esecutivo. E invece la capacità di programmare è fondamentale per chi fa impresa, per chi lavora, per chi ha necessità di ripartire e a questo proposito ci saremmo aspettati un'attenzione in più per il mondo e le imprese. Poiché questo decreto arriva al 31 di luglio e copre anche il mese di giugno, sappiamo che il mese di giugno è pieno di addempimenti fiscali per i professionisti e per i contribuenti. Nei prossimi giorni, infatti, i contribuenti e i professionisti dovranno, tra il 16 e il 30 giugno, onorare 144 addempimenti nel pieno della crisi economica da Covid-19. Senza dimenticare che dal giorno successivo, il 1 luglio, sottosegretario, ripartirà la macchina della riscossione, nuove notifiche, nuovi pagamenti, pignoramenti finora sospesi dall'emergenza sanitaria. Pare siano circa 35 milioni le notifiche di nuovi atti bloccati ad oggi dall'emergenza sanitaria ma che forse ora andrebbero bloccati per l'emergenza economica in cui intere categorie sono cadute a seguito dei provvedimenti ideologici di questo governo. Vorrei inoltre ricordare che chi aveva rateizzazioni fiscali si ritroverà a pagare il 31 di luglio in un'unica soluzione 16 rate arretrate tutte insieme. Dobbiamo inevitabilmente pensare a nuovi strumenti come riliquidare gli acconti degli anni precedenti o unificare gli anni fiscali della pandemia. E sulla difficoltà di ripartire mi lasci dire che al Sud abbiamo un dato paradossale. il dato che molte attività soffrono la possibilità di non poter programmare ma soffrono moltissimo la difficoltà a trovare lavoro per fare quelli che il segretario del PD aveva definito lavoretti e non si trovano lavoratori non perché sono lavoretti nel mondo della ristorazione del turismo degli alberghi perché il reddito di cittadinanza ha totalmente precluso la capacità di reperire forza lavoro agli imprenditori il reddito di cittadinanza ha messo in ginocchio le aziende e sta riproponendo con forza il tema del lavoro nero dobbiamo e dovete prendere atto del fallimento di questo strumento che ha creato come unica occupazione i navigator che hanno trovato un solo posto di lavoro il proprio quindi a seguito di tutto questo e di molto altro che non ho potuto esprimere Presidente ma che rimane agli atti di quest'aula negli ordini del giorno e negli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato annuncio il voto contrario di Fratelli d'Italia grazie la ringrazio onorevole Cagliata onorevole Versace